La vicenda della recente e pesante condanna a oltre 13 anni di carcere di Mimmo Lucano, che è l'ex sindaco di Riace, che è stata inflitta dal Tribunale di Locri per reati di associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, truffa, peculato e abuso d'ufficio, oltre che far discutere in sé, pone però alcune riflessioni sul tema più ampio delle migrazioni. Vari partiti da destra a sinistra si sono subito scatenati, ognuno con la sua versione di comodo, peraltro prevedibile e precostituita, pro o contro la condanna di Lucano, senza però mai andare a toccare il grosso tema a monte della vicenda. Relativamente alla visione generale sul tema migrazioni, da un lato le forze moderate di destra rappresentanti la borghesia progressista e le forze di centro-sinistra, quelle che di fatto perseguono un'accoglienza interessata, tendono a sostenere che il nostro paese sviluppato abbia necessità dei migranti dai paesi poveri per lavori che qui non vuole più fare nessuno, per pagare le tasse dei nostri pensionati, assistere vecchie famiglie, sostenere l'economia, i consumi e la denatalità. Questa è una versione di comodo ovviamente che ha dato l'alibi a molti addirittura di lucrarci sopra, si vede il caso delle cop e il business dei migranti. Questa visione tende a minimizzare i problemi e gli impatti che le migrazioni creano nei paesi d'arrivo e cercano di dimostrare che sono inferiori ai vantaggi che apportano. Ci sono poi frange di politica più a sinistra, più schiette, quelle dell'accoglienza disinteressata, etica, umanitaria e generosa collegate anche alle ONG. A loro però sfugge che incoraggiando le migrazioni di fatto essi rafforzano e aggravano le sofferenze, i rischi anche di morte che ne derivano e tutto sommato anche del sistema economico di sfruttamento evocato alla crescita che c'è dietro. Andando poi più a destra nel parterre politico si notano invece posizioni più nette e contrarie all'accoglienza dei migranti, facendo leva sulla mancanza di lavoro per tutti, sulle risorse sociali già limitate per gli italiani, sulla paura del calo di sicurezza, sulla paura e chiusura verso lo straniero, insomma i temi della paura. Tali partiti adottano posizioni sovraniste, proponendosi belletariamente di bloccare i flussi migratori, chiudendo le frontiere, erigendo muri e recinzioni, accentuando le tensioni internazionali, senza capire il facile prevedibile esito finale di tali politiche. Ci sono poi capolavori di alcune forze politiche di destra camuffate ad altro, veramente oggi per fortuna irrilevanti nel parterre politico, che sulla tacita constatazione che comunque il rifiuto dell'accoglienza non riesce a arginare le migrazioni, si sono inventate slogan del tipo aiutiamoli a casa loro, formula in realtà razzista di chi fa finta di non capire che i popoli nei loro paesi d'origine non avrebbero bisogno di essere aiutati, ma lasciati in pace piuttosto, piuttosto liberati dallo sfruttamento e dal colonialismo che l'Occidente sta perpetrando su quei poveri territori ormai da secoli e che tuttora prosegue nelle situazioni di neocolonialismo e una serie infinita di violenze, di sopravfazioni, saccheggi nei loro confronti. Perché ci sono le migrazioni? Tra le cause che sono molto complesse vi è giocato certamente anche la strategia del mondo occidentale di trovare forza lavoro per il progresso e la crescita delle proprie economie, importando mano d'opera, nuovi consumatori e depredando di materie prime i paesi poveri d'origine, da trasformare e avviare anche essi sulla via dello sviluppo in modo da estendere a oltranza il modello consumistico occidentale, trasformando le loro economie locali, prima di sussistenza agricole e artigianali, in economie mercificate, in economie industriali, urbane e consumistiche. Ecco il vero peccato originale, cioè voler imporre al resto del mondo, prima felice e autosufficiente, un concetto di progresso erroneamente collegato al vero benessere dei popoli, popoli che con la loro economia di sussistenza, l'agricoltura, le risorse naturali, l'ambiente sano, avevano certamente un livello di benessere molto maggiore di qualunque paese sviluppato che di lì a poco li avrebbe colonizzati. Quindi contrapporre il concetto di paesi sviluppati con quelli sottosviluppati o in via di sviluppo è davvero un grande inganno, perché si collega il concetto di sviluppo essenzialmente al PIL, il prodotto interno lordo, cioè al reddito, alla creazione e a crescimento continuo della ricchezza, che non è necessariamente proporzionale alla qualità della vita e alla felicità dei popoli. Poi la globalizzazione ha spinto al culmine questa deriva nei paesi poveri, con le delocalizzazioni, lo sfruttamento delle risorse locali da parte dei paesi ricchi, che hanno destabilizzato quei paesi per riuscire a sfruttarli meglio, fomentando addirittura guerre civili e etniche per indebolirli, impiantandovi governi fantoccio, corrotti e proni ai loro interessi occidentali. Questo sistema ha in vero reso i paesi ricchi sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri. Questi sconvolgimenti, uniti all'intensificarsi della crisi climatica e ambientale, innescata proprio dallo stesso sistema capitalistico occidentale, cioè da noi, hanno così costretto milioni di individui a emigrare verso i paesi industrializzati, non potendo più vivere nei loro luoghi d'origine, divenuti inospitali, poveri e inquinati. E quindi lo sfruttamento senza limiti di risorse naturali e sociali, tipiche del capitalismo e della visione neoliberista la causa primaria delle immigrazioni. Quindi siamo noi responsabili. Quindi quale sarebbe una politica di vero aiuto ai migranti? In realtà la chiave sarebbe uscire dalla logica emergenziale tipica di chi non vuole o non sa risolvere i problemi alla fonte e si concentra sulla loro manifestazione acuta, talvolta speculandoci sopra a fini economici o addirittura elettorali. Sarà quindi indispensabile, oltre che impegnarsi a favorire l'inserimento sociale e lavorativo nel nostro paese, nei paesi occidentali, per chi è davvero costretto a fungire, al contempo scoraggiare l'emigrazione facendo l'interesse degli stessi paesi poveri, riducendo in quei luoghi le iniquità che costringono i loro popoli proprio a emigrare e a lasciarli. Iniquità ingenerate dal nostro sistema economico basato sulla continua crescita, crescita economica e di produzione di merci, che andrebbe quindi cambiato. Se ponessimo fine alla politica della crescita infinita, efficientando allo stesso tempo i processi produttivi e di trasformazione, il riciclo, se riducessimo gli sprechi, consumeremmo meno materie prime, meno risorse naturali, impatteremmo molto meno il clima e l'ambiente e quindi lasceremmo più ricchezza, risorse e opportunità nei paesi che finora abbiamo depredato e devastato per il nostro presunto progresso. Ridurremmo quindi le cause primarie delle emigrazioni, aiutando davvero in questo modo le popolazioni a riprendere in mano la propria vita nei loro paesi, dai quali difficilmente si distaccherebbero se avessero la possibilità di vita dignitosa. I paesi ricchi risparmierebbero anche risorse e tecnologie per aiutare i paesi poveri a ripristinare le loro condizioni iniziali di benessere ambientali, sociali, rendendo conveniente e dignitoso restarvi e tornarvi dai paesi sviluppati che li hanno risucchiati, come risarcimento etico per i danni arrecati nei decenni precedenti da parte nostra. Al tempo stesso i paesi sviluppati gioverebbero delle mancate emigrazioni, addirittura di un flusso di ritorno inverso ai paesi d'origine, in termini di mancati costi di gestione dei flussi, di mantenimento, costi sociali evitati, mancati costi delle illegalità fisiologicamente presenti nelle zone d'ombra dell'immigrazione, i mancati controlli necessari a garantire la sicurezza sociale, quindi un sacco di costi evitati. Massima accoglienza nel rispetto delle regole andrebbe però sempre garantita a tutti coloro che ormai devono fuggire dalle loro terre per via dei cambiamenti climatici irreversibili, devastati dalle guerre che abbiamo generato noi stessi, privati dei terreni a causa del land grabbing. Ovviamente tali politiche non possono essere attuate da una sola nazione, ma devono essere fatte di concerto a livello internazionale. Se però non si cercherà di risolvere il fenomeno migrazioni con politiche di vero aiuto in loco, ma partendo da un cambio drastico dei sistemi e finalità economiche globali in casa nostra, riducendoci a chiuderci nella difesa degli interessi nazionali e erigendo muri, i problemi posti dalle migrazioni ci travolgeranno tutti come uno tsunami. Grazie a tutti.